Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore sia con voi. Carissimi, per me è motivo di grande gioia condividere questo momento di grazia insieme al nostro carissimo Preside, che lo ringrazio per questa opportunità che mi dà, il nostro amatissimo, carissimo Sindaco. Insieme a tutti voi, colleghi, alunni e collaboratori di questa prestigiosa scuola del liceo artistico. Allora, iniziamo subito l'inaugurazione, la benedizione del laboratorio informatico della stampante attraverso dei momenti particolari. Il primo momento è la benedizione dell'acqua, con la quale noi saremo aspersi e benediremo anche i locali di questa scuola. Poi ascolteremo la parola di Dio, poi sarà il momento in cui noi benediremo proprio il laboratorio, dove ci sono le stampanti. E infine, la benedizione conclusiva. Allora, il primo momento, la benedizione dell'acqua. Il Signore sia con voi. E col tuo Spirito. Signore Dio, la tua parola santifica tutte le cose. Benedici e santifica quest'acqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, passiamo al secondo momento, che è l'ascolto della parola di Dio. Cantiamo insieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umidi. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Carissimi, è noto a tutti il valore importante, qualificante, della parola scritta. attraverso la stampa con le nuove tecnologie, come per esempio la stampante a 3D. la parola scritta che ha lo scopo, la finalità di raggiungere più persone possibili in diverse parti del mondo attraverso messaggi, contenuti, fatti, storie che vengono curati nei minimi particolari, cercando di essere attenti, aderenti alla verità. Cristo è la verità. Io sono la via, la verità è la vita, dice Gesù. Cristo è la via attraverso cui noi attraversiamo le strade della comunicazione, attraverso i segni della condivisione, della partecipazione, dell'aiuto reciproco. Come si dice, c'è più gioia, è più bello dare che ricevere. Quindi abbiamo tanto bene da poter divulgare al mondo, tanto possiamo fare, dobbiamo fare per Mazzara. Il nostro sindaco ha preso questo impegno veramente di rendere sempre più bella la nostra città. Noi che siamo stati insegnanti, che continuiamo a insegnare, ho insegnato 45 anni e per me la scuola è la mia seconda famiglia. Non so perché mi sento più professore che prete. Comunque, poi, dopo 45 anni di favola a scuola con i miei alunni, meravigliosi colleghi, con la chiesa, va bene. 35 chiese, va bene. Un record, un record. Come si dice il Signore? Allora, il Signore è la vita, ci riempie i nostri cuori del dono dello Spirito Santo. Dicevo poco fa agli amici, se c'è un peccato comune di tutta l'umanità, questo peccato si chiama ingratitudine. Non siamo abbastanza grati a Dio per quello che ci ha dato. E io ho scelto questo brano. Il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. Ecco quando ci svegliamo la mattina, sempre l'ode e gloria a Te, oh Signore. Grazie, Signore. San Francesco, un nome che è San Francesco. Grazie, Signore, laudato sì per tutte le bellezze della vita. Come dice Dostoevsky, siamo nel liceo artistico. Alla fine, insomma, triunferà, saremo giudicati proprio sulla bellezza. E allora facciamo gli auguri a questa scuola, facciamo gli auguri al nostro Preside, al nostro Sindaco e a tutti i collaboratori. Facciamo un applauso di augurio. Allora, a questo punto noi benediciamo questa scuola e poi andiamo a benedire il laboratorio. Voi resterete tutti qui, ma poi io tra un minuto ritornerò. Andremo con il Preside e il nostro Sindaco. Benediciamo e poi ci ritroviamo qui. Il Signore sia con voi e col tuo Spirito. Signore Dio, la Tua parola santifica tutte le cose, fondi la Tua santa benedizione in questa scuola, concedi a tutti coloro che hanno a bene e a cuore il bene di questa scuola la salute del corpo e la protezione dell'anima. Per Cristo, nostro Signore, anima. Io ve ne dico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un applauso di augurio. Allora, io lo dico in tutte le benedizioni. Io non faccio politica. Io le promesse le mantengo. Mi raccomando, ma anche voi dovete essere bravi. Tra un minuto... Facciamo due minuti, dai. Fra due minuti saremo qui. Vi potete collegare tutti in diretta. Conviva, c'è la diretta per ora. Conviva, viva Mazzara. Dai, andiamo e fra due minuti siamo qui. Ecco, adesso stiamo andando proprio nell'aula che da oggi sarà la discussione delle varie sezioni qui ad esempio degli studenti che dovranno elaborare importanti progetti. Adesso il sindaco Salvatore Quinci, Don Nicola Misuraca e il dirigente Alberto Vinda andranno proprio ad inaugurare con la benedizione di Padre Nicola Proprio questa nuova aula. Ok. Allora, taglio il sindaco. Il sindaco, certo, certo. Bene, come vedete è previsto il taglio del nastro. Il taglio del nastro. Entra, entra. Il nastro, noi... Quando sei pronto tu me lo dici? Siamo pronti noi già. Benissimo, ecco. Vedete, in questo momento avrà il taglio. Abbiamo finito, abbiamo finito. Ah, tagliamo questo. Sì, 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 abbiamo finito. Allora, sentiamo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, benissimo. Allora, state tutti lì, benediciamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Di nuovo un applauso. Ecco, bene, prima di andare... Facciamo la benedizione finale, diamo la parola al sindaco e al prestito. Andiamo, diciamo, a concludere il momento dedicato a donna Nisuraka. Ricordo che ci troviamo sempre presso il liceo artistico di Mazzara. Siamo in rigorosa diretta su Vivi Mazzara, salutiamo tutti i mazzaresi che si trovano all'estero, tutti i mazzaresi che dal nord Italia, ovunque, ci stanno seguendo, sia in diretta che successivamente in replica e in registrazione. Ogni giorno migliaia di voi si collegano con Vito Mazzara. Vediamo, c'è anche il Presidente del Consiglio, Vito Cancitano, il Sindaco, il Dottor Vito Billarrello, il Consigliere Comunale Bonanno. Oggi diciamo che c'è un po' una delegazione dell'istituzione locale della città di Mazzara. Allora, diciamo tutti insieme, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ascoltiamo gli auguri da parte del nostro carissimo Preside. Allora, intanto ringrazio le autorità, il Sindaco, la Sessione, il Consiglio e il Consigliere Comunale della loro presenza, che vi onora proprio la loro presenza, perché questo istituto vuole assolutamente interagire con questa amministrazione. Ringrazio i colleghi, ovviamente, e i collaboratori presenti che si sono spesi per la realizzazione di questo laboratorio e questo è riuscito grazie a questa sinergia che c'è fra la Presidenza e il Direttore dei Servizi Amministrativi e il Dottore Girolamo Perniciaro. E' stata una ricerca molto forte perché queste attrezzature non si trovano facilmente. Oggi, come oggi, il liceo artistico si pone con questo laboratorio all'avanguardia dell'offerta formativa, dando la possibilità ai nostri ragazzi, ovviamente, di fare questa formazione a livello anche informatico. E' chiaro che i primi anni i ragazzi progettano e realizzano manualmente, perché la parte artistica manuale non si deve perdere, ma solo imparando in questo modo possono poi, eventualmente, utilizzare queste macchine che per loro sarà un valore aggiunto dopo il diploma, perché se lo possono spendere per un curriculum personale. Bene, bene, grazie. Facciamo un grandissimo applauso. Buongiorno a tutti. È davvero un gran piacere per me essere qui oggi. Ringrazio il Preside Ditta, Padre Nicola, perché riesce sempre a coinvolgerci e riesce sempre a guidarci. Ringrazio tutto il corpo docente, ovviamente il Presidente del Consiglio, il Vice Sindaco, i consiglieri presenti e soprattutto i ragazzi, perché questo è il loro mondo, no? E lo si vede subito che è il loro mondo. Perché l'espressione creativa che trovo in tutti i laboratori, ma nei corridoi, nell'aula di ingresso, è davvero straordinaria. E mi chiedo come mai non sono venuto prima a visitarvi, perché è davvero troppo poco il tempo che dedichiamo ai nostri ragazzi e soprattutto alla visita dei nostri istituti. L'istituto artistico, Padre Morello, è davvero oggi con questo laboratorio, si presenta come un istituto in grado di avere un'offerta formativa sempre più adeguata. Perché è bello riconoscere che oltre alla produzione artigianale adesso ce ne sarà qualcuna di alto valore tecnologico. E il primo pensiero che mi è venuto visitando i laboratori è come mai, Preside, noi facciamo troppe poche cose insieme. Quindi già da questa visita sono nati due progetti che io prendo formalmente l'impegno di realizzare insieme a voi, con la forma della convenzione e della compartecipazione con soggetti privati. Perché nell'ambito della produzione artistica la compartecipazione pubblico-privato, la partnership è un elemento indispensabile, perché chiama tutti quanti a prendersi una responsabilità nel generare un percorso di sviluppo nella nostra città. Io ho visto delle produzioni veramente belle, vediamo se siamo in grado di realizzarle per la nostra città coinvolgendo i ragazzi. Sarebbe un valore aggiunto incredibile. Portiamole fuori, mettiamole fuori a Mazzara. Allora se c'è un impegno che io assumo oggi, visto che padre Nicola mi ha stimolato poco fa, e anch'io mantengo le mie promesse, Nicola, se c'è un impegno che assumo, è quello di portare fuori da quest'istituto il più possibile le opere che rappresentano la creatività di questi ragazzi. È davvero uno spreco che rimangano soltanto qui dentro. Tanti auguri e buona fortuna a tutti. Allora, va bene. Allora, volete la benedizione finale? Sì, sì, sì. Se mi chiamai, no? Ti ripeto, volete la benedizione finale? Sì! Se mi conoscono, spero di chiara. Ora vi metto alla prova. Il Signore sia con voi! E col tuo spiore. Di nuovo, la volete? Sì. Allora, chinate il capo per la benedizione. State così tre quarti d'ora. Sì, non ho guardato. È uno sconto. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La festa è iniziata appena. Allora, a tutti, tanti auguri. Facciamo festa. Viva il liceo artistico! Benissimo, per cui adesso andremo tutti quanti al laboratorio per capire meglio le funzionalità importanti. Intanto, questo è un momento fotografico. Vediamo l'inquadratura. Emanuele Campisi, il presidente del Consiglio, Vito Cancitano. Il consigliere comunale Bonanno, il dirigente scolastico Ditta. E poi abbiamo Vito Billardello, il vice sindaco, padre Nicola Misuraca e il sindaco della città, dottor Salvatore Quinci. Ecco, c'è anche il docente D'Antoni, poi c'è Girolamo Perniciaro, dirigente scolastico. Ecco, momento per i fotografi. Qui intanto Emanuele gira, abbiamo, come vedete, tanti docenti presenti, ecco che inquadriamo in questo preciso istante. E noi adesso ci apprestiamo ad andare proprio nell'auga dove avverrà l'inaugurazione, in questo meglio, perché è arrivato il momento del brindisi. Intanto Emanuele Gireti, c'è il presidente del Consiglio, Vito Cancitano. C'è anche il consigliere comunale Bonanno, come abbiamo preannunciato. E oggi è una giornata importante per il liceo artistico, per l'innovazione tecnologico e didattico della scuola, per gli studenti. Sì, è una bellissima giornata e vorrei fare complimenti al preside Ditta e tutti i suoi collaboratori per questa meravigliosa manifestazione che ha portato all'acquisto di alcuni macchinari che permetteranno ai nostri ragazzi di lavorare bene. Un ringraziamento va pure al consigliere Bonanno che in momenti non sospetti quando si parlava di un'eventuale chiusura del liceo artistico di Mazzara e Vallo si è attivato subito, giustamente con la regione ed è riuscito in questo momento proprio a far rimanere qui questa struttura. Consigliere Bonanno, la sua presenza oggi è significativa. Quale? Ha sempre seguito le vicende del liceo artistico da cittadino mazzarese e da istituzione? Sì, intanto un ringraziamento va preso per averci invitato a questa manifestazione all'interno dell'istituto d'arte. Credo che questo laboratorio sia la conferma che il liceo artistico deve e non deve muoversi da Mazzara e Vallo. Prima perché conta più di 250 studenti all'interno dell'istituto, studenti che vengono non solo da Mazzara ma da tutta la provincia di Trapani. Noi vigileremo su questo e insieme all'amico Cancetano faremo in modo di essere sempre presenti e battagliare fino a quando risuotate non resti definitivamente a Mazzara del Vallo. Bene, grazie. Ci avviamo verso il brindisi un po' tutti quanti insieme mentre camminiamo. Vice sindaco Billardello, anche oggi la sua presenza è molto significativa qui al liceo artistico. Una giornata importante per la scuola? Una giornata importantissima, una scuola che rappresenta sicuramente un'eccellenza della nostra città. Un liceo artistico che bene si sposa con quella che è la vocazione naturale della nostra terra. Ci sono tantissimi laboratori creativi e soprattutto un luogo dove dà la possibilità a tanti giovani e a tanti ragazzi di poter mettere a frutto le loro competenze, le loro capacità, la loro immaginazione, la loro creatività. E oggi lavoriamo un laboratorio importante che è il laboratorio tecnologico che rappresenta sicuramente un punto di forza per questo istituto ma sicuramente rappresenta un punto di forza per l'intero mondo scolastico della nostra città. Per cui è uno spazio più didattico che ha il liceo artistico e qualcosa in più, no? Un laboratorio molto importante per gli studenti? Sì, è un valore aggiunto, ma un valore aggiunto non soltanto per gli studenti, non soltanto per la nostra comunità, ma penso per l'intero mondo scolastico. Noi siamo sicuramente orgogliosi come amministrazione comunale di partecipare a questa iniziativa, a queste inaugurazioni che soprattutto rappresentano il frutto di un impegno di un istituto, di un impegno di una classe docente, di un impegno dei dirigenti presenti sul nostro territorio che sicuramente amano la scuola, interpretano e danno alla scuola il giusto significato, il giusto peso e questo chiaramente produce risultati e produce i frutti come quelli di oggi. E quando questo accade nella nostra città sicuramente noi non possiamo che essere orgogliosi e non possiamo che sposare queste iniziative in maniera molto felice e contente. Ringraziamo il vice sindaco dottor Vito Billardello, è arrivato il momento del brindisi, noi ci accomodiamo, Emanuele sempre in diretta su Vivi Mazzara, per cui non poteva mancare questo momento inaugurale, adesso andremo a vedere anche il, veramente il, il laboratorio, tutte le macchine sono attive. Ecco c'è il brindisi in questo momento, vedete, poi proseguiremo magari con qualche altra intervista. Ecco, Emanuele Campisi, che tra l'altro esce anche dal liceo artistico di Mazzara del Vallo, frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Palermo, per cui sta pubblicando nei dettagli il laboratorio. Ha effettuato il brindisi. Ecco, alla signora Ditta, vogliamo chiedere qualche spiegazione maggiore nei dettagli di questo nuovo laboratorio del liceo artistico di Mazzara? Allora, è un laboratorio di fabbricazione digitale, quindi all'interno troviamo dei macchinari con i quali realizzare dei modelli che sono stati precedentemente elaborati digitalmente, quindi al computer. Abbiamo tre stampanti 3D che stampano polimeri e argilla, e poi abbiamo un taglio laser e uno scanner. Bene, andiamo nei dettagli, anche se in maniera telegrafica. Ecco, iniziamo da lì. Quello mi pare che è l'angolo dell'argilla. Esatto, questa è una stampante 3D per la stampa dei materiali fluidodensi, in generale argillosi. Viene preparato un impasto argilloso adatto per la stampa e viene riprodotto il modello 3D che vi è stato inserito. Quanto tempo impiegherà per la realizzazione finale? Dipende in genere dalle geometrie, per questo pezzo in particolare ci vorrà un'ora, un'ora e mezzo circa. Bene, poi cosa vogliamo inquadrare? Questa macchina, Emanuele, inquadriamo questa macchina. Questa è una macchina per il taglio laser, serve per incidere o tagliare vari materiali, per lo più plastici, in questo caso è un plexiglass. Bene, poi abbiamo visto i computer, ecco, lì cosa avviene? Su quel piedistallo è stato posto un oggetto che viene scansionato e quindi si può fotografarlo da varie angolazioni per rilevarne un modello 3D che poi sarà possibile riprodurre attraverso le stampanti. Ecco, vogliamo inquadrare Emanuele più da vicino questo momento. Bene, abbiamo altri macchinari qua, vedo. Sì, questa è sempre una stampante 3D ma funziona con materiali liquidi, quindi sono delle resine che vengono solidificate tramite un raggio UV e in questo caso sta stampando questa testa di leone, una scultura. Questa invece è una stampante che stampa polimeri tramite la fusione di un filamento polimero e adesso sta riproducendo il vaso che potete inquadrare, questo sarà il risultato finale, impiegherà circa 8 ore per l'intera realizzazione. Benissimo, grazie dottoressa. Benissimo, grazie dottoressa.